Giacomo Tomasello, benvenuto mister, ci diamo subito del tu perché bisogna entrare in una confidenza importante, quella che ci porterà lontano, speriamo, fino in fondo, perché Pineto reclama a tutti i costi questa benedetta 2. Ci ha provato due volte, ma non c'è due senza tre, non lo dico però. No, ma intanto buonasera a tutti, grazie a te e a tutti quelli che lavorano con te. Sì, Pineto ha delle grandi ambizioni, come ce l'hanno anche tante altre squadre. Quest'anno abbiamo costruito, secondo me, un roster importante, non lo possiamo negare. Piano piano, di pari passo, una partita alla volta, cercheremo di esprimere il nostro potenziale e di raggiungere la fine del campionato in una posizione consona per poter disputare i play-off. Quest'anno è cambiata la regola, quindi le prime si possono scontrare, è molto importante magari arrivarci. Vediamo, se ci riusciamo sarebbe un bel vantaggio. Giacomo, quest'anno hai guidato in maniera splendida la Versa, che poi si è scontrata proprio, destino voluto, col Pineto, col tuo attuale Pineto. Campionato che comunque è cresciuto ulteriormente di qualità, altro che A3 terzo campionato. Questo è veramente già quasi un A2 direttamente, perché sia nel Girono Sud e quello centro-nord, diciamo così, è veramente di assoluto spessore. È cambiato tanto negli ultimi anni in questo, diciamo così, mondo dell'A3? Sì, l'A3 era un campionato un po' snobbato dai giocatori un po' più di livello superiore. Dal primo anno di A3 sicuramente si è accentuato sia dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tattico, ma anche dal punto di vista fisico, aggiungerei io. Ci sono dei giocatori che hanno delle qualità enormi, che scendono da categorie più alte e che hanno arricchito questo campionato, quindi secondo me sarà un campionato molto equilibrato, soprattutto il Girono Sud, dove ci sono tante tante squadre. Nel Girono Nord dei nostri, mi ricordo Fano, senza nulla togliere gli altri, sia il Fano, Macerata, Belluno, qualche altra sicuramente ci terrà del filo da torcere, quindi sono contento di farne parte e spero che nel proseguo del campionato ci siano dei risvolti positivi per noi.